Gentili telespettatori, buona giornata. Vannacci indagato per truffa e peculato, la Lega ridice vogliono intimidirlo mentre lui dichiara di essere demoralizzato, sfiduciato e preoccupato. Quando un uomo delle istituzioni, dice il generale, viene accusato di averle tradite è la peggior offesa che si possa fare. Lui dice sono rimasto malissimo, sono demoralizzato, sfiduciato e preoccupato quando un uomo delle istituzioni viene accusato di averle tradite è la peggiore offesa che si possa fare, sono le prime parole del generale Vannacci indagato dalla procura militare per i reati di peculato e di truffa. Di che cosa viene accusato? Viene accusato di aver organizzato cene inesistenti in Russia, di aver preso l'indennità per i familiari ma non corrispondono le date sui passaporti dell'arrivo dei familiari a Mosca, quindi viene accusato di aver messo più giorni di permanenza dei familiari, di aver organizzato delle cene inesistenti che si fanno lì per promozione e anche 9.000 euro sulla BMW che lì non si è capito bene cosa siano questi 9.000 euro sulla BMW a disposizione che avevano lì. Lui dice ma sono fiducioso nella giustizia perché è consapevole che prima o poi la verità verrà fuori. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera Il generale ha parlato con il presidente dell'osservatorio militare e grande amico suo dice ci ho parlato due giorni fa, ieri e questa mattina per un tempo lunghissimo ho perso il conto, ci stiamo confrontando, lui dovrebbe candidarsi con chi è indipendente da un certo sistema e quindi né con la Lega né con Fratelli d'Italia Gli unici che possono rappresentare le sue idee e tutelare le sue battaglie sono quelli di indipendenza Non crede assolutamente alle accuse, dice Vernacci non farebbe una cosa del genere nemmeno se scendesse nostro signore a terra Questa è la differenza tra un ufficiale come lui e un quacquara qua Diciamo che la discesa in campo di Vannacci in politica creerebbe non pochi problemi perché un suo partito potrebbe avere delle percentuali molto alte un suo partito o una candidatura nella Lega potrebbe muovere gli equilibri della politica Una discesa di Vannacci in campo danneggerebbe tutti i partiti Danneggerebbe il PD, la sinistra, i Verdi, Calenda, Renzi, Fratelli d'Italia, Forza Italia Danneggerebbe la Lega A meno che non si candidi con la Lega Porterebbe via voti un po' a tutti Quindi capite che Vannacci oggi viene visto come un problema Vedete che spergiurano che un uomo così non farebbe mai un arrotondamento dello stipendio imbrogliando sui rimborsi spesa Io vi parlo della mia esperienza Della mia esperienza come quadro dirigente nel settore commerciale Io avevo rappresentanti dipendenti, rappresentanti autonomi Avevo strutture vendita sotto di me Quindi c'erano rappresentanti che avevano rimborso spese Colleghi che avevano rimborso spese Io vi assicuro che ne ho viste di tutti i colori Di tutti i colori Quello delle persone che hanno il rimborso spese Il rimborso spese, ma questo non c'entra niente con il generale Vi porto la mia esperienza Quelle del rimborso spese è un'area dove spesso chi ha la possibilità Di avere questo rimborso cerca di arrotondare Ho visto un collega che per esempio andava Lui aveva un paese dove si parlava una lingua che non mi ricordo Quindi lui portava gli scontrini dove non si capiva niente Perché era tutta una lingua stranissima Lui al posto che andava a mangiare la cena Andava a comprarsi una valigia di pelle E poi metteva fuori lo scontrino come se fosse stata la cena In porto simile però lui rinunciava alla cena Si comprava la valigia di pelle E portava uno scontrino che non si capiva niente in quella lingua Avevo un collega che seguiva il nord ovest dell'Italia E lavorava per esempio dal lunedì al giovedì E il venerdì se lo faceva al mare Ed è stato beccato anche quello Io avevo un rappresentante in Puglia Che ne combinava di tutte Rompeva l'antenna del telefono ogni mese Quindi falso ovviamente per farsi rimborsare l'antenna del telefono Organizzava cene Comprava regali a Natale per i clienti Tutto chiaramente falso Ogni tanto faceva qualcosa ma era tutto falso Si faceva fare scontrini compiacenti con ristoratori I negozi si spartivano il rimborso Ne ho viste davvero davvero tante O quelli che facevano Al posto che il pieno facevano solo 40 euro di benzina E poi andavano pianissimo Per lucrare Quindi far consumare la macchina poco Per prendersi la differenza Insomma ne ho viste io di tutti i colori Nel mondo del rimborso spese aziendale Ah un'altra C'era un mio collega Che andava Scendeva all'autogrill Non faceva colazione E andava a cercare sul bancone Gli scontrini che erano lì abbandonati Poi se li metteva in tasca Usciva a colazione L'aveva fatta a casa Poi se li faceva rimborsare Oppure quelli che scambiavano Lui prende cappuccio e brioche 3 euro Però vede lì sul bancone Un altro scontrino Da 6 Prende quello da 6 Si fa rimborsare quello da 6 Ecco La Lega dice Riguardo il generale Vannacci Si tratta della solita inchiesta Orologeria Vannacci è un uomo amato dai cittadini E scomodo a palazzo Visto che non riescono a intimidirlo In altro modo Ci provano con inchieste e minacce La nostra stima nei suoi confronti Non cambia Anzi aumenta Vedremo quello che Che verrà Che verrà fuori Come vi dicevo Vannacci comunque è un problema Per la politica È un problema per i politici Perché lui arrivando Porta via voti Vedremo quello che Succederà Qui alla fine sono tutti indagati Avete visto no? Tutti indagati per qualcosa Grazie a tutti E arrivederci A presto